Nell'ambito della Duia d'Or come Fondazione Asti Musei apriamo la rete dei musei a tutto il territorio in modo che chi viene ad Asti per la degustazione dei vini e dei prodotti tipici abbia anche un'offerta culturale importante. Il clou da parte nostra sarà la mostra Asti degli Arazzi quindi una realtà importante dal punto di vista culturale e artigianale della nostra attività locale con le arazzerie Scassa e Montalbano i cui arazzi sono di proprietà di enti e istituzioni ma anche di privati che verranno esposti dal 18 di settembre fino al 17 di gennaio presso Palazzo Mazzetti con una rappresentazione veramente eccezionale. Nello stesso tempo però tutto il territorio astigiano sarà in grado di offrire tutta una realtà culturale, paesaggistica, artistica di tutte le più importanti realtà a cominciare dai percorsi del Romanico e quindi diciamo che in tutto questo periodo della Duia la cultura sarà parte integrante rispetto al turismo, all'economia per creare le condizioni di rilancio del nostro territorio.